Buonasera, siamo qui questa sera per la presentazione del libro del nipote di Ignazio Giunti. Abbiamo ospite il pilota di Formula 1 Vaccarella a cui io farò delle domande della sua storia e per raccontarci tutto il suo rapporto che aveva con la Ferrari e con Ignazio Giunti. Grazie. Grazie. Grazie.